invece se vado con una coda media dato che lavoro in questioni di profilo in maniera bilanciata è come se io aggiungessi una riga orizzontale ciao, grazie di essere qui con noi oggi lei è Ferdinando e Natte Ferschetti, vi lascio tutti i suoi contatti in descrizione e visto che avete amato alla follia il video sull'armocromia fatto appunto con lui che è un consulente di armocromia e non solo un consulente di immagine in questo video lavoro praticamente sulle immagini sia delle persone ma anche in generale di qualsiasi cosa quindi banalmente parlo anche di cinema, d'arte proprio perché l'immagine in qualche modo ci circonda non solo delle persone ma in qualsiasi ambito sì di estetica del cinema esatto non è, non commenta i film in generale e visto che l'avete amato tanto abbiamo deciso di farne una nuova versione un pochino diversa perché questa sarà una consulenza di facial shape quindi andrà ad analizzare la forma del mio viso capiremo qual è la pittinatura che mi sta meglio magari la liga di eyeliner che mi sta meglio franto non franto, coda alta, coda bassa, giusto? esattamente ed è appunto una consulenza di immagine per capire meglio quando ci può star bene anche occhiali, eccetera quindi io adesso vi lascio a lui e se vi piacerà questo video simbolete mi piace e commentate secondo voi cosa sono se siete un po' esperti di questo settore ok, cominciamo allora, innanzitutto dobbiamo pensare che ogni persona ha una forma del volto unica quindi ci sono tanti tipi di archetipi e noi oggi andremo a vedere qual è l'archetipo di Chiara ma comunque dobbiamo pensare che ci sono caratteristiche uniche quindi una persona con un volto ovale sarà una persona completamente diversa da un'altra persona con un volto ovale quindi noi andremo ad analizzare qual è che sono le caratteristiche fondamentali di Chiara e andiamo anche giustamente a capire il suo tipo di archetipo per prima cosa quindi dobbiamo capire quali sono le sue simmetrie e quindi attendiamoci un po' su queste cose ok per prima cosa andiamo un attimo a vedere quanto misura il suo volto quindi andiamo a vedere se è un viso lungo, se è un viso corto e utilizziamo semplicemente un metro la cosa che ti fa fare è misurare dall'attaccatura dei capelli finalmente il suo volto misura circa 16 centimetri e mezzo, quasi 17 questo cosa significa che da un punto di vista di focal point che cos'è il focal point? il focal point è dove mettere la scollatura perfetta lei da un punto di vista avrà bisogno di 17 centimetri proprio perché fa l'incompleta misurazione con il suo volto e partendo dall'almento partendo dall'almento esattamente una cosa importante è anche che 16 parra 17 centimetri non è una misurazione molto lunga da un punto di vista di volto perché semplicemente 18-19 è nella media 15-17 significa che ha un volto un pochino stretto dai 20 in su allora significa che il volto sarà un pochino allungato questo significa che già sicuramente il viso di Chiara non sarà molto allungato e quindi da quel punto di vista dovremmo allungarlo ulteriormente magari con un capello con degli accessori andiamo a vedere come altra cosa dobbiamo vedere quindi anche quelle che sono le sue misurazioni anche da un punto di vista di simmetrie quindi adesso andiamo a vedere proprio come separata se ha un delle asimmetrie visive con appunto questi tipi di strumenti si facciamoli vedere quanti sono per ora questi è lui dovete vedere lì su vai ci vedete lì ok si vede un po' la luce comunque questo e questo si vede un po' la luce ma viratevi di lui mi avvicino un attimo dall'altra parte chiara in maniera oddio perdona chiara se dovessimo dividerla in due giustamente una cosa importante che ognuno di noi ha delle asimmetrie quindi non siamo diciamo utilizzando il termine deformi ecco ma siamo proprio unici nel nostro genere abbiamo caratteristiche di questo tipo ognuno di noi ha delle asimmetrie e questo tipo di consulenza serve anche per contrastare quelle che sono le asimmetrie naturali del nostro viso ad esempio in questo caso vediamo che chiara ha l'occhio destro leggermente più alto è leggermente più grande quindi da un punto di vista visivo sicuramente andare con una un ciuffo verso destra che vada a coprire leggermente il suo viso giustamente dalla parte destra va a riequilibrare lo sguardo perché se noi invece dovessimo farlo nell'altra parte lo sguardo risulterebbe un pochino più vero vero risulta più spiraggiato esattamente quindi in verità già come tiene naturalmente il ciuffo chiara va più che bene proprio perché va a lavorare in questo modo piuttosto che così ok e quindi ad esempio anche per l'eyeliner per il make up sicuramente andare con un eyeliner qui leggermente più alto potrebbe andare a contrastare bene i suoi occhi andiamo avanti e anche tipo mi sai dire l'eyeliner più lungo più corto sì perché dato che questo occhio è leggermente più allungato allora qui aggiungere giusto una cutina un pochino più lunga potrebbe dare una sensazione sempre di appunto sguardo più dritto bello e guarda interessante adesso andiamo a vedere il suo profilo vedo a metterli profilo? sì mi sto girando ok l'altro non lo lavora così allora da un punto di vista visivo dobbiamo pensare che ognuno di noi può avere tre tipi di profilo un profilo fronte un profilo bilanciato un profilo mento cosa significa? quando ho un profilo fronte significa che ho la fronte che è più in avanti rispetto invece alla zona del mento che retrocede quando ho un profilo bilanciato significa che dal punto di vista ottico tra fronte e mento c'è una linea continua invece quando ho un profilo mento significa che ho questa zona un pochino più in avanti rispetto alla zona della fronte ha un profilo bilanciato significa che da un punto di vista ottico se io vado a prendere la sua fronte e la metto qui ha una linea continua quindi non ha nessuno sbilanciamento così evidente e quindi che coda che conciature donano andiamo a vedere sicuramente se andiamo con a lavorare troppo in basso risulterebbe con questa zona un po' troppo in avanti perché il nostro compito dato che ho un profilo bilanciato è non sbilanciarlo e quindi io se vado a lavorare sul sotto vado a sbilanciare il suo profilo stessa cosa se vado con una pettinatura eccessivamente alta perché appunto vado sempre a sbilanciare il suo profilo invece se vado con una coda media dato che lavoro in questioni di profilo in maniera bilanciata è come se io aggiungessi una riga orizzontale per andare a ricreare bene il suo profilo quindi ad esempio per lei funzionano molto bene tutte le cose a attaccatura media quindi con una coda media uno scignol medio eccetera eccetera Allora abbiamo visto che il suo profilo è bilanciato questo fa significare che quindi tutto ciò che lavora su un'acconciatura media funziona la stessa cosa anche sui cappelli quindi ad esempio un cappello a visiera come un basket potrebbe risultare eccessivamente allungato verso la zona della fronte oppure una cuffia col pompon risulterebbe troppo pesante per la zona invece del mento quindi sicuramente su di lei funzionano molto bene i baschi proprio perché danno una orizzontalità perfetta tipo il paricino esatto anche il basco paricino potrebbe molto funzionare perché non è né troppo avanti né troppo indietro quindi da questo punto di vista il profilo serve proprio anche a capire i tipi di cappelli che potrebbero funzionare da questo punto di vista bene adesso andiamo a vedere otticamente anche quella che è la sua scala del volto che cos'è la scala del volto e quando io ho gli elementi del mio volto quindi gli occhi il naso e la bocca piccoli medi o grandi la scala del volto ci aiuta a capire la grandezza ha degli accessori che ci valorizzano di più proprio perché vanno in scala con i nostri elementi nel caso di Chiara la prima cosa che vediamo è che ha degli occhi molto grandi che vanno in proporzione anche con delle labbra abbastanza carnose e in proporzione anche col suo naso quindi in scala sicuramente Chiara vorrebbe degli accessori di una grandezza abbastanza grande perché un qualcosa come se come ad esempio un brillantino un accessorio eccessivamente piccolo potrebbe andare ad ingrandire troppo quelli che sono i suoi elementi naturali del viso quindi occhio occhi naso e bocca quindi la sua scala in questo caso si dice scala grande e quindi in proporzione andiamo con degli accessori grandi adesso andiamo proprio a vedere la sua forma quindi andiamo ad analizzare forma del volto per forma del volto e vediamo un attimo dove funziona di più ma con accessori grandi intende anche tipo le collane si esattamente tutto ciò che era chiuso all'interno del tuo volto orecchini accessori come ad esempio una collana eccetera eccetera oppure se ti piacciono dei capi maschili tipo la cravatta o un papillon che sia un papillon leggermente più grande rispetto al papillon un pochino più piccolo anche queste qui sono le varie forme del viso abbiamo ad esempio un quadrato un diamante un viso a cuore un viso oblongo un viso a triangolo vediamo un attimo a vedere dove era chiuso il suo tipo di archetipo qui se volete sia provare a indovinare mentre mi li fa a quale appartengo sia vedendo le forme provare a indovinare quale siete voi cioè ti può provare a dire ah secondo me sono questo quindi ditemi tutto nei commenti sono molto curiosa vediamo un po' allora il viso a quadrato sicuramente non è il massimo perché quello che andiamo a vedere è che è chiaro non ha una mandibola estremamente definita banalmente questo tipo di volto è riconducibile un po' ad Angelina Jolie quindi uno scheletro visivo uno scheletro del viso molto molto abbuntito quasi e sicuramente nel suo caso vediamo che è più tonda quasi quindi più dolce da un punto di vista di forma qua abbiamo il diamante c'è effettivamente qualcosa che potrebbe essere riconducibile a questo viso il punto è che sì ha uno zigomo abbastanza evidente ma non è così tagliente infatti questo tipo di viso è riconducibile ad esempio a Lily Ross tip quindi la fia di Johnny Depp e da questo punto di vista quindi lei non ha un zigomo così tagliente poi andiamo con un viso oblungo che comunque l'avevamo già escluso a priori all'inizio perché lei ha un viso abbastanza corto il cui vediamo che da un punto di vista di scheletro manca effettivamente una parte esempio questo tipo di volto è riconducibile ad attrici come Sarah Jessica Parker quindi un volto visivamente più allungato qui invece abbiamo un triangolo in cui la zona delle tempie è molto ristretta e invece la mandibola è molto più larga non è nemmeno qui il suo caso proprio perché come già nel quadrato abbiamo visto la mandibola non è così segnata come appunto anche in questo tipo di forma del volto poi questo siccome è anche un modo più lungo proprio si diciamo di si ci possono essere anche qua degli archetipi comunque abbastanza corti che possono rientrarci questo invece è il triangolo invertito cioè il contrario del triangolo cioè la zona delle tempie che è un pochino più ampia rispetto invece alla zona del mento comunque la zona della mandibola e quindi da questo punto di vista non è comunque il suo volto qui banalmente possiamo riprendere dei visi come Victoria Beckham quindi è un viso che comunque lavora soprattutto nella zona delle tempie qui abbiamo un viso ovale che già ci piace di più perché comunque Chiara ha un viso abbastanza morbido questo viso potrebbe essere già più funzionale per Chiara perché comunque ha un viso più morbido però quello che vediamo è che lei ha un viso leggermente più corto questo tipo di archetipo possiamo ricondurlo ad esempio a Monica Bellucci o anche a Charisterone quindi comunque dei tipi di volti leggermente più lunghi e meno morbidi adesso andiamo con la forma a cerchio che già già vediamo che è molto 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 più inerente con i suoi lineamenti però ci manca l'ultima forma del volto che è il viso a cuore Chiara ha un viso molto particolare perché possiamo prendere queste due forme del volto e quasi incrociarle quindi il viso a cuore e il viso a cerchio sicuramente se dovessimo decidere la sua forma del volto è un volto a cerchio ma è come se fosse un 60% uno e un 40% l'altro ecco perché dico che è importante lavorare di caratteristiche e simmetrie perché ognuno può rientrare in un archetipo ma ovviamente ha delle caratteristiche uniche comunque andiamo un attimo a vedere quindi cosa è meglio da un punto di vista di forme per Chiara ha anche iniziato a piovere esatto quindi se sentite questo è proprio la pioggia sì sicuramente da un punto di vista di forme avendo quindi un volto morbido noi andremo a contrastare con dei accessori più duri quindi ad esempio tutti quegli accessori che lavorano in lunghezza come pendenti oppure tutti quegli accessori che hanno delle forme geometriche ben spiccolose aiutano a riequilibrare meglio il suo viso abbastanza morbido ed ecco perché ad esempio Chiara funziona molto bene anche con un capello liscio proprio perché va a contrastare effettivamente il suo tipo di volto un pochino più morbido però c'è da dire però avendo un viso comunque che ricorda anche quasi un cuore un'onda morbida ogni tanto può comunque funzionare proprio perché comunque va a aumentare il viso cuore e quindi da questo punto di vista dipende anche cosa vuole comunicare se vuole comunicare estrema dolcezza andrà con un capello morbido se invece vuole comunicare un qualcosa di più equilibrato da un punto di vista di volto allora andrà con un capello un pochino più dritto adesso andiamo a vedere anche qualche montatura di occhiale ridiamo un po' quindi banalmente questo tipo di occhiale qua quindi all'Harry Potter all'Harry Potter all'Harry Potter ora lo provi si vedono un po' le luci però si otticamente va a riempire ancora di più il suo volto e quindi va troppo ad ammorbidirlo e abbiamo bisogno di contrastare meglio quindi quelle che sono le sue caratteristiche e quindi andiamo a vedere un altro tipo di occhiale andiamo a vedere qualcosa di molto più duro otticamente già molto meglio però avendo comunque un tipo di volto un po' particolare come vi dicevo da un punto di vista di caratteristiche abbiamo bisogno di trovare qualcosa di sia rigido ma non troppo però già questo mi piace molto di più rispetto a un qualcosa di estremamente rotondo ecco ad esempio un qualcosa gatto vediamo che è molto bellina le sta molto bene però possiamo fare di meglio quindi stiamo intanto proprio step by step per vedere la sua montatura migliore proviamo invece questo allora sì otticamente come geometria funziona molto bene se fosse leggermente più stretto ancora meglio però come forma le dono molto quindi qui andiamo proprio a prendere più stretto dice un po' più corto esattamente così è eccessivamente lungo per il tuo tipo di viso però almeno come forma geometrica già ci siamo proprio perché non è né troppo rigido né nemmeno troppo morbido quindi è un po' compromesso per il suo tipo di volto ovviamente ci sono tante 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 altre tips la consulenza la consulenza in questo momento è finita anche perché se no saremo qui ad ammorparvi troppo con quelle che sono le nostre applicazioni perché giustamente bisogna anche capire il cliente o comunque la persona che viene a farsi questo tipo di consulenza cosa vuole comunicare cosa appunto qual è il suo compito il suo obiettivo da un punto di vista di immagine e giustamente qui invece siamo andati ad andare siamo andati soprattutto a prendere quelle che sono le esigenze oggettive proprio di simmetrie e quindi queste sono un po' quelle che quelle che sono le tips per quanto riguarda il viso di Chiara posso chiederti invece la lunghezza dei capelli va a riprendere un po' quello che abbiamo detto all'inizio quindi nel tuo caso che hai 16 parla 17 cm andiamo a riportarlo il massimo da un punto di vista ottico ah il massimo diciamo otticamente è bene lasciarlo al massimo 17 cm oppure la metà 17 cm che più o meno è quello che già hai che comunque può funzionare un'ultima cosa invece vediamo la Francia proprio perché ci siamo scordati proprio effettivamente da un punto di vista di simmetria cosa è meglio per lei il volto è diviso in tre porzioni abbiamo la porzione fronte la porzione occhi la porzione mento andiamo a vedere otticamente cosa succede se vado a a togliere una porzione allora chiara da un punto di vista di simmetrie è ben equilibrata e quindi se io dovesse andare a togliere una parte del suo delle sue porzioni potrebbe andare ad allargarsi otticamente sulla zona sulla porzione degli occhi quindi diciamo che non sta male ma sicuramente se andiamo a scoprire il viso sta meglio quindi la Francia funziona ma c'è molto di meglio in questo caso proprio il ciuffo a destra è l'opzione migliore per chiara proprio perché va a equilibrare lo sguardo e va anche a scoprire il suo viso e quindi questo è tutto bene allora io vi ringrazio se avete guardato tutto questo contenuto vi ringrazio Ferdinando perché secondo me è bravissimo e io adoro fare questi tipi di contenuti tra l'altro so che piacciono anche a voi vi mando un pozzone vi mandiamo un pozzone grazie buonanotte ciao